Christmas Village a Cara Raffiere, l'evento che precede il Natale, con tante possibilità di divertimento per tutta la famiglia e la possibilità di incontrare Babbo Natale. Grazie a tutti i nostri amici. La mamma e papà hanno la possibilità di fare shopping senza stress, lasciando i propri bimbi al baby park gestito da personale di qualità. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. In contemporanea l'anteprima di Cara Raffiere 2017 per tutti gli appassionati di gioco, fumetti e cosplay. Io sono con la grandissima Tina Hoffman qui al Christmas Village a Cara Raffiere con la sua Best Dance. Ciao Tina! Ciao! Come stai? Tutto bene, grazie. È vero che non mi conoscevi? Così giuro che avrebbe fatto fatica chiunque a riconoscerti, perché veramente... Dimmi un po', cosa vuoi... Bionda, adesso vedi? Bionda! Di solito noi ti vediamo con la chioma nera, oggi bionda. Che cosa presentate oggi qui al Village Christmas? Allora, oggi noi facciamo uno spettacolo che è praticamente palo dei videogiochi. Siccome il videogiochi è amato dai bambini, noi vogliamo fare un spettacolo per bambini. Praticamente questo spettacolo dove due bambini vengono catturato dentro il mondo dei videogiochi e passando diversi livelli dei videogiochi, diciamo, quelli più famosi che ci sono, loro riescono a riuscire di nuovo nel mondo reale. Come al solito tu esprimi proprio tantissimo quello che fai, perché ami quello che fai con tutti i tuoi bambini, con tutti i tuoi ragazzi della scuola. Ho visto anche Fabio che è con voi, anche se non è qui in questo momento, però l'ho visto negli spogliatori, quindi c'è anche lui con voi. Sì, sì, Fabio oggi fa Goku di Dragon Ball, io Vegeta, perciò sì, siamo tutti in, diciamo, in spirito videogioco, adesso vicino a Natale. Tina, ti ringrazio e insomma, non vedo l'ora di vederti sul palco insieme a Fabio e ai ragazzi. Grazie mille, grazie a te. Grazie a tutti.